Stasera quest'uomo ha messo la premeditazione, tutto organizzato. Con due figli che vanno a scuola, innanzitutto ringraziamo il buon Dio perché potevamo commentare qualcosa di disgraziato. Poi da Ministro dell'Interno non basta pregare il buon Dio, evidentemente. Già domani mando una circolare a tutti i sindaci per fare quello che dovrebbe essere scontato, ma evidentemente non tutti fanno, che chi lavora a contatto col pubblico, soprattutto con dei ragazzini, porti la fedina penale. Questo qua aveva i precedenti, per guida in stato di ebrezza e abusi su minori, e cosa gli metti in mano? Un pulmino con dei ragazzi. Cioè veramente dovresti essere arrestato tu, oltre a quello che l'ha fatto. Quindi certificato penale, obbligatorio. Se c'è l'imputazione per terrorismo, grazie al decreto sicurezza, decreto Salvini appena approvato, gli si può revocare la cittadinanza, in caso di condanna. Tre, non è questa fattispecie ma riguarda sempre i nostri figli negli asili e nelle scuole, c'è già lo stanziamento di 130 milioni di euro per le telecamere negli asili nido e nelle scuole materne. A tutela dei bimbi, a tutela del 99% delle maestre, che fanno in maniera eccezionale un lavoro pesante, fondamentale, però chi mette le mani addosso a un bambino, e vale anche per gli anziani e per i disabili, nel caso di riposo, veramente non posso dirlo da Ministro dell'Interno che mi prudono le mani, perché non è... Però, se ci fosse stato il figlio di chiunque su quell'autobus, via la cittadinanza, voglio capire chi gli ha messo in mano quell'autobus, e ringraziare quel ragazzino di 11 anni, perché ha avuto testa, cuore, coraggio... E i carabinieri sono intervenuti subito, le forze dell'ordine, per carità di Dio, però, ripeto, già domani mattina tutti i sindaci italiani avranno l'invito, io non obbligo, io educatamente invito, a chiedere il certificato penale a chiunque sia a contatto con i suoi. Sentiamo le testimonianze di questi ragazzi. Versavo la benzina e accendeva il fuoco e praticamente continuava a dire che tantissime persone in Africa continuano a morire ed è tutta colpa di Di Maio e Salvini. Gli insegnanti, anche loro, non immaginavano che succedesse questo e praticamente l'autista ci diceva ma non vi succederà niente e praticamente poi ha versato la benzina, tirava fuori la pistola e il coltello e praticamente continuava sempre a dirci se i carabinieri vi sparano, questo posto esploderà. Invece i carabinieri sono arrivati a liberarvi? Sì, sono venuti a liberarci. Da dove sono entrati i carabinieri? Visto che non potevano sparare perché altrimenti esplodeva allora hanno aperto le porte con forza e hanno anche spaccato le finestre. Sono arrivati i carabinieri, sì, sono arrivati tanti carabinieri per salvarci. Da dove sono saliti? Sono perché hanno fatto con l'auto, hanno preso con l'auto il prindigomma, non mi ricordo come si chiama l'hanno fermato e la prima volta non ce l'abbiamo fatta. La seconda volta che era intanto l'ha tirato indietro e l'hanno bloccato e hanno iniziato i poliziotti col manganello a spaccare il vetro. È vero che lui aveva il coltello? Aveva il coltello e la pistola col coltello tagliava la parte dove c'era il laccio ma alcune volte lo faceva apposta per tagliare la pelle. Cosa diceva intanto? Dovete morire tutti però bruciando. Avevo paura di morire.